Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo il giorno dopo la partita, la catastrofe diciamo, l'uskifu, l'uscempiu, perché ci ha portato alla sconfitta, giustamente ci ha portato alla sconfitta. Però c'è di una cosa, come ha detto l'allenatore prima, in primis, come ha detto l'allenatore del Cittadella, sono più meriti del Cittadella che demeriti del Lecce, cioè significa che il Cittadella ha giocato talmente tanto bene che ha fatto giocare male il Lecce. È vero, è un dato di fatto, è stato un dato di fatto. Si può racchiudere così la partita ragazzi. Il Cittadella ha fatto la partita perfetta, non ha sbagliato nulla e noi abbiamo sbagliato uno casino, palle perse, insomma un bordello. Loro hanno giocato in maniera precisa, sono stati pure fortunati negli episodi, come ha detto Baroni, giustamente che Baroni ha detto che il Cittadella è stato favorito negli episodi e noi sfortunati. è vero, altra cosa vera. Io poi guardo le interviste e interpreto le interviste a quello che penso io. Quindi hanno ragione sia l'allenatore del Cittadella che Baroni per quanto riguarda le cose. Che poi Baroni ha detto che comunque hanno fatto la partita, hanno giocato bene, abbia ditta una minchiata, perché mica puoi dire al sciocato fiacco. Ha detto Baroni, a Ducazzo ha sciocato bene o lecce. Dine la verità, ha sciocato fiacco, sbagliato un sacco dei passaggi. Ce li sbagliati i passaggi? Io ho odie, ce li ha sbagliati. Quando sbagli un sacco di palle, non so 50 palle, perse, non si capisce. Che è che li sbaglia? Come fai a dire che ha sciocato bene o lecce? Puoi dire che si è impegnato, che ha cercato di rimettere la partita a posto fino al 95esimo, che comunque si è impegnato, ci ha messo grinto, è vero. Comunque la maglia l'ha studata, devo essere onesto. Però non mi puoi dire che ha sciocato bene. Non me la puoi dire perché per culo Baroni, mi raccomando, non mi piglia per culo. Comunque a parte questa qua, questa battuta, no questa battuta, è vero, parlerò delle pagelle, che sicuramente state aspettando i miei voti. E vedrete cosa dirò ogni giocatore. Vabbè, a parte Gabriele, che comunque non è colpa nei due gollo, ha poi fatto la minchiata in uscita a fausa, già ai 5 e mezzo, perché ha rischiato la pro... è uscita a Buecchio, questa nazionale è uscita a Buecchio, meno male che è una uscita buona. Per quanto riguarda i difensori, Luciani, 5 in pagella, ovviamente il primo gol è stato macchiato un errore suo, che poi nell'intervista ha detto che poteva fare fallo, però non l'ha fatto per evitare l'ammunizione. Quindi comunque ha valutato, ha cercato l'intervento, ragazzi, ha sbagliato, quindi non è più di tanto da condannare. Perché poi Luciani è stato uno di quelli che si è impegnato di più, ragazzi, e che al secondo tempo, alla fine, io l'ho detto ieri, alla fine, infatti non lo voglio neanche criticare, è insufficiente per l'errore, ma per il resto comunque si è comportato abbastanza bene, specialmente nel finale che si è impegnato tantissimo e ha preso pure la traversa di testa. Ma era diventato un attaccante aggiunto, si vedeva che voleva onorare la maglia, si vedeva Luciani. Era uno dei pochi che stava lottando, quindi chiudo qui la storia di Luciani. Per quanto riguarda Tuya, 5 in pagella, anche lui ha fatto un errore gravissimo, ma non voglio criticarlo perché gli errori fanno parte della vita. Ragazzi, non bisogna criticare gli errori individuali, che ci stanno, è l'errore umano. Il problema è la mentalità, che ieri hanno giocato con la mentalità sbagliata, con quello che facevano lo compitino, queste cose qua, hanno preso la partita un po' sotto campo, loro ci hanno pressato, non hanno riuscito i cucchioni su questo cazzo di pressing, e siamo andati in difficoltà, ma sarà una questione mentale. Ecco l'errore di ieri sera. Quindi Tuya, 5, a parte quell'errore che purtroppo ci sta nel calcio, che ha permesso il gol, il raddoppio del cittadino, e la per il resto comunque ha fatto la sua onesta partita. Per quanto mi ricorda, Gendre, 4,5, ovviamente non ha capito uno cazzo, ieri si è fatto surcassare completamente gli avversari, da qua si vede l'inesperienza che ancora ha, avanti non è mai andato avanti, e indietro ha fatto danni seri. Per quanto riguarda Gallo, 5,5, comunque, primo tempo ha fatto delle cose buone, ha chiuso bene gli attacchi sulla sua fascia, e si è anche visto in maniera propositiva avanti con qualche buon cross, quindi 5,5, è stato uno dei pochi che si è salvato, per quanto mi riguarda ieri. Centrocampo. Lo devo dire? Ah, l'avevo detto ieri, che non davo voto. Gargiulo senza voto, no comment, chiudo qua, perché ieri sera non ha giocato con noi, ieri sera non ha giocato con noi, ha giocato con loro, perché gli passai sempre la palla all'avversario, quindi per non insultarti pesantemente, che mi dispiace, no comment, quindi, no, senza voto, NC, non classificato. Passiamo avanti, Maier, ieri, anche ieri, 5 in Pagella, l'ho visto pure ieri, ha sbagliato parecchi appoggi, perché quello è un giocatore, quella se sta con la capo opposto, può fare la differenza pure in Serie A, se non sta in buono di capo, praticamente manco se in Serie B, e pure lo scartoffe, quindi ieri si è visto che, e stava ieri praticamente fuori forma completamente, ha sbagliato un sacco dei passaggi, non si è capito uno cazzo, cioè ha combiato in un bordello, quindi, 5 in Pagella. Juhlman, 26 è stato l'unico che ha preso la sufficienza, che ieri comunque è stato l'unico a salvare la baracca, a centro campo, quel resto proprio man bassa, poi è calato un po' nel secondo tempo, però comunque lui è uno che si è impegnato, che ha cercato comunque, ha giocato anche con qualità, con qualità, ha sbagliato poco, anzi, ha fatto pure delle belle giocate, ha tolto la palla all'avversario, comunque ha rotto un po' quelli cuglioni, quindi è stato l'unico a salvarsi, insieme a Coda, in attacco. Per quanto riguarda l'attacco, Strafezza, 5 in Pagella, ieri è stata una delle partite peggiori che ha fatto Strafezza, secondo me si è a nervosito Muto, perché i giocatori di Cittadella, ne spaccavano la anche, infatti ieri non riuscito mai a saltare l'uomo, è vero che ha preso la traversa, è stato sfortunato dopo 3 minuti, però ne spaccavano la anche praticamente, e lui ha iniziato a fare falli, quindi fanno falli, insomma, è tipo una lotta di Wastling è stata ieri con queste pezze, quindi praticamente si è scoglionato e alla fine ha fatto il cazzo, 5 in Pagella. Per quanto riguarda, chi? Chi? No, avete già capito, anche lui senza voto, no comment, perché ieri praticamente non ha giocato proprio, solitamente se va piccolo caffè, è bene, solita cosa, Ieri praticamente si è nasciuto, alla piscina, si è rimasta la piscina tutto il tempo, quindi non ci ha giocato proprio, quindi senza voto, quando uno non gioca, senza voto, come quello che quando stai, come tipo il fantacalcio, no, che i giocatori non giocano, danno se è politico, io li do senza voto politico, senza voto, quindi praticamente, passiamo a coda, se in Pagella ha avuto, praticamente è stato, un fantasma per tutta la partita, si è mossa, ha fatto così in un poco, però è stato anche merito, dei difensori del Cittadella, che hanno un ruttile gughioni, che l'hanno chiuso bene, quindi è stato anche merito loro, quindi si è visto poco, però nel finale, dunque ha segnato, ha fatto un bel gol, su assi di Hulmand, e ha sfiorato anche il secondo gol, per questi cazzi dei portieri, mi fanno gli miracoli, quindi, sempre a Gela, Baroni 4, ieri non hai motivato per nulla la squadra, hai fatto anche cambi in ritardo, tipo, vabbè, ha fatto trasire a chi, Ragusa, senza voto, perché non mi va ad insultarti, mi dispiace, non vai in a lira, è dir poco, dire che non vai in a lira, si scarso, è dir poco, ti dico proprio le cose più semplici, il Rodriguez è entrato troppo tardi, Elgaso è entrato, 5, ha fatto un casino, pur origine, non ha capito un cazzo, ha messo già, a mezzo agli scarpari, è diventato scarparo, pur origine, nienti, quindi 5 anche lui, dove, il Rodriguez ha visto un po', che si è mosso, ma alla fine non ha fatto un cazzo manco, il Gio, non ha concluso niente, Calabrese è entrato bene, al secondo tempo, sei in pagella, è stato lui, uno di quei pochi che è entrato, che ha fatto bene, e quindi, è andato, per lui è andato bene, quindi ragazzi, speriamo col Monza, col Bencimo, perché dobbiamo vincere, per forza, non ci sono altre parole da fare, altre questioni, quindi, a Gianni tocca, sempre solo Forza Lecce, baffanculo al Bari, baffanculo al Salerno, e baffanculo pure a Liviere, che ha ci segnato, baffanculo, ciao, alla prossima.